Caro Botta, che significato ha per te vestire la maglia dell'Inter? Per me è un onore e un piacere stare qui in questa squadra così importante, hanno passato tanti calciatori importanti e che hanno vinto tutto, per me è un piacere e un onore, spero di poter dare qualcosa a questa squadra. Come ti sei trovato subito a Milano? Hai avuto un periodo di recupero dall'infortunio e poi hai dovuto metterti subito a disposizione dell'allenatore? Sì, prima quando arrivi fu troppo difficile perché venia di un infortunio, qualcosa nuovo, un altro paese e la verità è che mi costò tanto, però hai tantos argentini qui e mi ricordano molto. Sì, dal primo momento che arriva l'Italia, sempre la gente e tutto, qui nell'Inter e fuori, i tifosi mi hanno trattato di una maniera che non ho parola per ringraziare. Ringraziare? Quindi la verità è che sono molto contento. Si riesce a imparare dai compagni, nel senso di tutti quei movimenti che fanno, che è frutto dell'esperienza poi, immagino? Sì, sempre trato di apprendere, tutto il giorno è di apprendere di tutti, credo che ho molto per apprendere e sempre sto apprendendo di tutti, se sei un delantero, un difensore, un volante, sempre trato di apprendere perché è per migliorare. Nicola dice, ciao Ruben, sono Nicola dalla Svizzera, quest'anno dice la stagione sta andando così così, speriamo di tornare a grandi livelli come è abituata l'Inter. Il quarto posto, secondo te, è un obiettivo che si può raggiungere e cosa ne pensi, insomma, di quest'Inter in generale? Sì, è l'obiettivo che abbiamo tutti, di arrivare alla Coppa, però sappiamo che è un partito difficile e importante, però con il gruppo che abbiamo, sappiamo che lo possiamo lavorare. Prova Interchannel a soli 4 euro per 7 giorni e poi sei libero di decidere se abbonarti. Per acquistare per tutte le informazioni, premi il tasto prima fila del tuo telecomando, vai su sky.it o chiama 199 11 44 00. Prova Interchannel e poi scegli Sky, liberi di... ...